Immersione, palloncina pop. Immersione, palloncina pop. Immersione, palloncina pop. Immersione, palloncina pop. Background. Stelle, delle stelle, delle strade, della Cina, that I love the 80s. I love the 80s. Oh yeah! Io li amo molto gli 80s. A parte la moda che era pessima di un'urendessa, urenda. Cambiamo il titolo e lo chiamiamo... Lo chiamiamo... Stupido sciderba. Chi mortadella, ciapatichè. Danone, lucciola volante. Evitare porre lì. Chiamiamo... Oleato... No. Ah, che fatica, che fatica. L'appola. Va bene, va bene. Personalizziamo questo giro. La facciamo tutta, tutta. Con... La togliamo qua. Perché non mi è dispiaciuta la roba del... Vabbè, che era natalizia. Non si poteva sentire di base. Non mi è dispiaciuta la roba delle professioni. Quindi facciamo una con solo... Con solo... Solo animali l'abbiamo fatto. Solo marchi. Solo sport. Proviamo. Indoor, lacrosse, lippa. La lippa. Slittino golf, orampicata di Brassisi, vuole sci d'arboina. Pattinaggio, corsa tuffi. Lotta greco-romana bocce, erocche. Aikido, poker sportivo. Delta, planismo, pallavolo. Scherma, palla e corsa campestre, volata. Pesca, hall, alborella. Facciamo, facciamo. Immersione, palloncina, bob. Eh? Immersione, palloncina, bob. Sci, immersione, ping pong. Lancio del vortex bashi. Bike, polo, taekwondo. Pattinaggio di figura, immersione, palloncina... Ma pattinaggio di figura? Mettiamo un... Aerobica. Immersione, palloncina, bob. Sci, arrampicata, pallacorda, bridge. Orientering. Cos'è l'orientering? Volo a vela. Padovanella. Anche questo è uno sport che ignoro. Sci alpino. Box, ice climbing, pallina. Lazzo, biathlon. Immersione, palloncina, bob. Immersione, palloncina, bob. Un'altra. Formula 1 col turismo. Frisbee, sci, darbo, pesca. Tamburello a tre. Surf, BMX. Lancio del disco. Tacu. Fantastico. E troviamone una per il nostro bear. No, qua abbiamo già visto... No, non è vero. Sì, abbiamo già visto. Andiamo a cercarcene una. Un po' più 70. Non l'è questa. Si parte qua. Non è questa. Direi di no. Non l'è questa. Non l'è questa. Non l'è questa. Beh, il ray che non è molto l'è questa. Eh, che bellissima base. 80 è abbastanza 80. Non so se è Barry, però. Questa è che l'abbiamo già usata per Barry, però la riusciamo. Un po' fancona, un po' bassona. Non c'è Raelle stasera. Non c'è il bassista Raelle. Va tutto così. Dai, 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 dai. Senti, Barry sei sempre lì. Ci sei. Sì. Sì, sì, sì. Vai. Sì, sì. Sì, sì. Sì, è rampicata all'accordo. Sì, è rampicata all'accordo. Sì, è rampicata all'accordo. Sì, è rampicata all'accordo. Grazie per la visione!